Dopo guerra, apre le porte del ciclismo italiano al nord. Nel 1949, Magni prende il treno e si presenta in Belgio per correre il Giro delle Fiandre, la classicissima dei muri e del pavè. Fiorenzo viaggia con un solo amico e gregario, a Uselda. A Ghand trova un caffè con camere dall'ex corridore d'Esbe. Non è tra i favoriti, ma in una giornata terribile di freddo, pioggia e nevischio, Magni attacca. Prima di oggi, solo una volta uno straniero aveva vinto questa gara. Come sempre coalizzati i belgi per impedire il bis. Si comincia con una fuga dello svizzero Kubler, che a Ostendat raccina con sé Titar, Ausenda, Desplantés e Smits. È il campione del mondo Scott a guidare la caccia ai fuggitivi. Sull'infernale pavè la fatica taglia le gambe. Intanto avanti sono ora in fuga il francese Caput e il belga Mathieu, presto raggiunti da Fiorenzo Magni. Scott sa come evitare i sovbalzi del pavè. Eccoli tre. Mathieu, che è staccato a ripreso Magni, il 54, e Caput. La pedalata di Fiorenzo è quella dell'atleta superiore. Lo raggiungono in 18. In volata, sceglie di lanciarsi con un rapporto più agile e sorprende tutti. Un volatone iniziato da lontano per evitare sorprese. Tutti battuti! La sorpresa della folla si muta in ammirazione. Gli occhi di Fiorenzo brillano di gioia e di commozione. È il primo successo. Vince anche nel 1950, quando gli organizzatori inseriscono per la prima volta il Grandmont, quello che ora è considerato il Mour, il muro per antonomasia. Magni attacca a 60 chilometri dal traguardo, nella tempesta, e vince con oltre due minuti su Chotte e oltre nove minuti su Caput. Traversando le città con le case dai tetti a Guzzi, si immaginano dietro le facciate gli interni fiamminghi. Ma oggi è giornata d'aria aperta. Lo sa bene, Fiorenzo Magni, deciso a replicare la vittoria dell'anno scorso. Dopo 100 chilometri ha scatenato l'offensiva. Gli ne rimangono 173, ma non mollerà più. Sette uomini gli hanno resistito. E tra questi è Scott. Ma Fiorenzo sgretola il gruppo. Supera i due soli che gli rimangono a ruota, il francese Maes e l'olandese Vanès. vincerà il premio della montagna. E il traguardo sarà suo. Battaglia durissima, superata a 33 di media. Nel 1951 si presenta con una bici speciale, studiata con Luigi Ganna, che monta ruote speciali e tubolari da 350 grammi. Fiorenzo attacca a 80 chilometri dall'arrivo e non lo riprendono più. È il trisse leggendario, con 5 primi e 38 secondi, su Bernard Gauthier. Ed eccolo ancora col numero uno sulla stiena nella gara del 1951. 199 i concorrenti, con i belgi decisi a prendersi la rivincita. Invece il primo fra loro, Van Stenbergen, non giungerà che sesto. Il campione del mondo, Scott, abbandonerà a 100 chilometri da Ghosn. Fiorenzo tira il colo a tutti. Nel gruppetto di nove fuggitivi soltanto la grande rivelazione Petrucci gli resisterà e giungendo quarto al traguardo passerà al comando del trofeo De Grange-Colombo. Freddo, vento, pioggia, grandine sono vanamente coalizzati contro il dominatore della gara. A 70 chilometri dall'arrivo si è liberato di tutti e ormai il suo trionfale successo è assicurato. Ma diciamo bravo anche a Petrucci per essersi affermato in campo internazionale. Ed ora accompagniamo Fiorenzo nella sua apoteosi verso quel traguardo che ancora una volta taglierà a solitario realizzando quella che ne sarà una delle più memorabili imprese ciclistiche di tutti i tempi. Vincendo per esempio la stessa maniera perché due volte da solo. Una volta ero solo fino ai 20 chilometri dall'arrivo ma hanno raggiunto e poi ho battuto il gruppo angolato. Quindi per me quella era una corsa fatta per i miei mezzi. Io che sono toscano, trapiantata in Brianza da una vita, non c'è pavè, non c'è strade brutte. Questo grullo della Toscana che va a vincere nel Belgio dove c'è un pavè, non è come quello di adesso, è una cosa incredibile. Questo muro di Gramont che la gente lo faceva a piedi perché i rapporti erano diversi allora adesso non vanno a piedi neanche sulle scale perché hanno così rapporti facili che non c'è più quel problema. E quindi queste tre vittorie mi hanno, posso dire di essere contento di queste mie vittorie. Tre successi consecutivi nella corsa dei muri. Un primato rimasto a distanza di tantissimi anni ancora ineguagliato. Se nel 48 era nato il mito del terzo uomo, nel 49 nasce la leggenda del leone delle fiandre. Questo italiano che va nella tana dei Belgi e batte tutti. Come abbiamo visto e sentito, la prima volta un successo in volata e le altre due volte Magni staccò tutti per arrivare sul traguardo in perfetta solitudine. Sembrava nato per quella corsa Fiorenzo Magni. Strappi brevi, pendenze non eccessive, anche se nell'ultima sua vittoria venne inserito il muro di Gramont, ma era già da solo, aveva già staccato tutta la concorrenza. Anche alla Roubaix Magni andò vicino al successo, ma arrivò solamente una volta terzo. Era andato in Belgio la prima volta nel 48 per fare esperienze e nel 49 assieme al proprio gregario Tino Ausenda fecero questa impresa. Sì, perché Magni aveva molto rispetto per i compagni di squadra, anche se Ausenda era un gregario, lo considerava come un fratello, un personaggio fondamentale per fare sì che venisse raggiunto questo obiettivo, l'obiettivo massimo, ovvero il primo posto. Partivano dalla stazione di Milano con le biciclette al seguito, sui treni degli emigranti, odore di formaggio, di prosciutto, di sottaceti. Ebbene, arrivavano a Ghand passando per Bruxelles su queste cuccette e poi allenamento il giorno prima e la gara la domenica. Grazie a tutti.